benvenuti bambini e ben ritrovati questo video è dedicato ai mesi dell'anno siete pronti vediamo adesso insieme quali sono i mesi dell'anno sono 12 primo e gennaio a cui seguono poi febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre e dicembre ogni mese bambini ha delle caratteristiche adesso li vedremo uno uno e osserveremo ogni disegnino che lo rappresenta mese numero uno e gennaio rappresentato da un pupazzo e dai fiocchi di neve perché il mese più freddo dell'anno numero 2 febbraio sono disegnate delle maschere perché a febbraio si festeggia il carnevale numero 3 marzo inizia la primavera e arrivano le prime rondini numero 4 aprile rappresentato dall'arcobaleno perché ai giorni piovosi si alternano tiepide e luminose giornate numero 5 maggio è il mese in cui sbocciano molti fiori profumati soprattutto le rose numero 6 giugno rappresentato dalle spighe di grano perché maturano proprio in questo mese numero 7 luglio rappresentato da una barchetta e di solito in questo mese andiamo tutti in vacanza agosto numero 8 è disegnato un bellissimo sole luminoso perché il mese più caldo dell'anno numero 9 settembre si torna a scuola e cominciano ad ingiallirsi le foglie spesso trasportate dal vento numero 10 ottobre rappresentato da un grappolo d'uva che matura in questo mese numero 11 novembre è il tempo delle castagne numero 12 dicembre rappresentato da un piccolo pacco proprio come quelli che noi riceviamo in questo mese adesso bambini li ripetiamo tutti uno ad uno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre e dicembre tutti insieme questi 12 mesi formano un anno in questa immagine i mesi sono stati rappresentati con una ruota perché perché i mesi si susseguono uno dopo l'altro secondo una successione ben precisa che viene detta successione ciclica cosa significa significa che ogni anno comincia sempre da gennaio a cui poi seguono tutti gli altri mesi secondo una sequenza ben precisa cioè dopo gennaio viene sempre febbraio poi marzo poi aprile poi maggio poi giugno poi luglio poi agosto poi settembre poi ottobre per novembre fino a dicembre con dicembre si conclude l'anno ma ne ricomincia subito un altro che riprende sempre da gennaio con tutta sempre la stessa successione degli stessi mesi fino ad arrivare a dicembre e quindi con la conclusione dell'anno. Bene bambini ricapitoliamo tutto i mesi sono 12 si ripetono sempre nello stesso ordine cioè in successione ciclica ogni mese ha una propria caratteristica ripetiamo questa fila strocca così vediamo di nuovo uno a uno con i disegnini che li rappresentano tutti tutti e dodici nevica e fa freddo a gennaio arrivano le mascherine a febbraio a marzo tornano le rondini nel cielo sereno ad aprile vedo un bell'arcobaleno a maggio sbocciano i fiori profumati a giugno i campi sono dorati a luglio andiamo tutti al mare ad agosto ci possiamo anche abbronzare a settembre le foglie danzano leggere a ottobre c'è l'uva nel paniere a novembre tempo di castagna e nebbiolina a dicembre in ogni dono c'è una sorpresina. Ma i mesi dell'anno non hanno tutti la stessa durata alcuni mesi durano trenta giorni alcuni mesi durano trentuno giorni uno solo febbraio di solito dura ventotto giorni alcuni durano trenta alcuni trentuno febbraio di ventotto giorni per ricordare il numero dei giorni che ciascun mese a possiamo imparare questa breve fila strocca 30 giorni a novembre con aprile giugno e settembre di ventotto ce n'è uno tutti gli altri ne hanno trentuno 30 giorni a novembre ma anche aprile insieme a giugno e a settembre di ventotto c'è solo un mese febbraio tutti gli altri cioè gennaio marzo maggio luglio ottobre e dicembre hanno trentuno giorni ricordiamo che febbraio può avere un mese in più un giorno in più ogni quattro anni e durante quell'anno assume un nome ben preciso si chiama anno bisestile bambini abbiamo terminato la lezione ciao ciao e arrivederci